salve a tutti da giusy oggi preparo dei gelatini panna e nutella gli ingredienti che ci occorrono sono 300 grammi circa di panna vegetale 3 cucchiai di nutella andiamo a preparare quindi in un contenitore ho versato la panna liquida e adesso vado a montarla non molto un pochino aggiungo 3 cucchiai di nutella io approssimativamente gli ho dato queste dosi poi vedete voi insomma se mi piace più con nutella quindi ho posato le fruste elettriche ho preso questa qua a mano mi viene meglio da mescolare se ci sembra un po dura ho aggiunto un po di latte di soia o bevanda di soia quindi dobbiamo avere non troppo montata al neve vado a riempire gli stampini per gelati una volta che è pieno vado a mettere il coperchio metto da parte prendo un altro stampino e lo riempio metto un altro tappeto quindi lo vado a sistemare e sono due se è sporco naturalmente lo puliamo metto l'altro tappeto lo vado a sistemare e così via facciamo tutti gli stampini che abbiamo quindi adesso ho finito di riempire tutti gli stampini per gelato quindi li vado a mettere in freezer per 5-6 ore a dopo quindi ho tirato fuori dal freezer i miei gelatini li ho lasciati tutta la notte perché l'ho fatti la sera a questo punto vi faccio vedere il risultato li tiro fuori e questo è un gelatino adesso li tiro fuori dagli altri ecco qua ed ecco pronti i miei gelatini panna e nutella alla prossima ricetta ciao